Ma no, che ti deve far la fuoco. Guarda là. Tutte le persone che vogliono far visitare i propri cani, premetto gratuitamente, sono pregati dopo la tua leccia una casetta. Ci sono i dottori, Gino Pinotti, e la cui tutte le persone che partecipano al Bull Meeting sono pregate se hanno piacere di far vedere i propri cani, così nel futuro possono usare questi cani per la riproduzione e sicuri che non hanno delle cardiopatiche. Grazie. Grazie a tutti. Guarda bene, mi libo come si bagna. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.